La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Le tecniche di manipolazione delle masse usate nel discorso di Fedez del primo maggio potrebbero ad occhio nudo sfuggire ai più distratti, ma non certo agli addetti ai lavori. Certiamo allora di ricostruire insieme quanto accaduto. Accendiamo un riflettore su come abbiano inciso sulla percezione delle persone. Solo in questo modo la verità potrebbe rappresentare lo schiocco delle dita davanti agli occhi dell'ipnotizzato. Cominciamo a capire quali fossero gli obiettivi di Fedez e poi vedremo come sono stati raggiunti. Il primo era quello di trasformare l'apertura di un concerto che catalizzava l'attenzione mediatica in un comizio politico per propagandare un pensiero unico, senza contraddittorio, con l'obiettivo di creare nella percezione degli italiani il mostro contro cui opporsi, che doveva essere impersonificato nella figura degli oppositori alla legge Zan. Il secondo obiettivo era quello di rafforzare questo sentimento di ostilità nei confronti del nuovo mostro, facendo credere che ci fosse stato un tentativo di censura da parte dei vertici Rai. A quel punto sarebbe poi entrata in gioco la figura del supereroe Fedez chiamato a combattere contro il bavaio con un esemplare esercizio di democrazia per rendere giustizia alla verità. Ma è andata veramente così? Analizziamolo insieme. Nella prima parte del suo discorso Fedez parla della necessità di tutelare la categoria dei lavoratori, soprattutto di quelli del mondo dello spettacolo, in crisi profonda a causa delle conseguenze della pandemia. Bacchetta addirittura Mario Draghi, chiamandolo semplicemente Mario, per non aver dato a quella categoria il giusto sostegno rispetto a categorie più tutelate. Il discorso fin qui non fa una piega, anzi, durante le celebrazioni del primo maggio è un argomento che giustifica la parentesi politica in occasione di un concetto. Ed infatti, a detta dello stesso Fedez, su questa prima parte del discorso non ha avuto obiezioni sostanziali da parte dei vertici RAI. Ma passiamo allora al discorso incriminato che invece la RAI ha definito poco opportuno. Fedez inizia il gioco sporco, ossia prova ad installare, instillare, scusate, nella percezione della gente alcune idee ben precise. La prima è che chi si oppone alla legge Zan è prevalentemente un leghista, mentre sappiamo bene che nel Paese c'è un'opposizione trasversale che riguarda tutta la società civile. Il Paese è spaccato in due su questa legge. Secondo, prova ad alterare la percezione del pubblico citando frasi vergognose di qualche estremista di turno affinché la parte politica che si oppone alla legge sia formata da coloro che i gheli brucerebbe nel forno. E' questo il messaggio che Fedez ha provato a far passare in modo che arriviamo al terzo punto, il più subdolo ma il più efficace di tutti, è quello che per associazione è riuscito a far credere che tutti gli oppositori alla legge Zan siano allineati a quel pensiero. Sintetizzando il messaggio che ha voluto far passare o sostieni la legge Zan o sei uno che vorrebbe eliminare i gay. Operazione riuscita magistralmente. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.